Assessore Santa Venere, il comune di Montesivano fa scuola perché la spiaggia accessibile a tutti diventa anche una bella spiaggia piena di servizi. Esatto, sì, è una spiaggia viva e come abbiamo voluto con orgoglio dire dall'inizio è una spiaggia aperta, senza barriere, ma deve essere una spiaggia anche vissuta dove i ragazzi, tutti coloro che ne feriranno, potranno vivere dei momenti come quello di questa mattina, sentirsi davvero, interagire anche con questi cani che faranno questa dimostrazione, loro faranno il bagno, avranno possibilità di utilizzare questo bello spazio attrezzato davvero per vivere come tutti gli altri. Sono tantissimi anni che noi abbiamo le spiagge, quest'anno però anche per il Covid abbiamo organizzato delle spiagge straordinarie, meravigliose, uniche in Italia. Mi permetto di dire, dobbiamo essere orgogliosi e lo dobbiamo dire a gran voce, io sono emozionato ed orgoglioso. Qui praticamente abbiamo eliminato completamente la disabilità, tutte le persone con disabilità possono fare tutto, possono godere della spiaggia, possono godere del mare, abbiamo dei gazebi per le ombre, abbiamo dei bagni di lusso, abbiamo le passerelle, abbiamo le docce, abbiamo le sedioline speciali, abbiamo gli assistenti, abbiamo addirittura le sedioline per gli accompagnatori. Devo dire che abbiamo superato addirittura quello che la legge consiglia per le spiagge accessibili, ecco perché lo dico con grande orgoglio. Quindi dobbiamo lavorare sull'ambiente per eliminare tutti quegli ostacoli. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo combattuto il pregiudizio e abbiamo garantito le pari opportunità. Poi oggi c'è questa, a suggellare questa spiaggia meravigliosa, abbiamo la Cappellina di Porto, gli Angeli del Mare, abbiamo un sacco di associazioni che appartengono alla Federazione Italiana Superamento Acquatico con i cani Labrador che faranno il bagno insieme ai ragazzi disabili, con il motoscooter che è un'ambulanza acquatica. Quindi davvero dico con emozione e anche con grande soddisfazione che oggi abbiamo fatto scuola in Italia. Andréa 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 Andréa